Allora Sindaco, come viene gestita questa emergenza neve e se ci sono, quali sono le criticità che state affrontando? Dunque, è un'emergenza neve che credo abbia avuto fin qui risposte abbastanza adeguate, la circolazione fin dalle prime ore della mattina era abbastanza fluida, le strade erano libere, perlomeno quelle principali, di accesso alla città e anche quelle all'interno della città stessa. Quindi da questo punto di vista la fase ci pare che possa essere considerata positiva, si è intervenuti anche su alcuni marciapiedi, le situazioni un pochino più difficoltose, la piaggia della torre ma anche altre zone della città dove ritenevamo prioritariamente di poter intervenire con la presenza del personale. Quindi complessivamente la fase ci pare sotto controllo. Stamattina abbiamo fatto una riunione operativa per segnalare le problematiche, le criticità e darci un po' di compiti e soprattutto prepararci ad altre situazioni nei prossimi due giorni. Ci rendiamo conto che ci sono stati dei disguidi e quindi per esempio la contraddizione sulla scuola chiusa di giovedì e non di venerdì, voglio spiegarlo ancora una volta perché mi sembra giusto rappresentare che cosa ci ha indotto a fare queste scelte. mercoledì le indicazioni della protezione civile davano delle nevicate abbondantissime di circa 9 cm per ogni ora e quindi ci siamo indotti, abbiamo deciso di prevenire e cercare di capire. Giovedì non vi sono state indicazioni di peggioramenti e quindi abbiamo ritenuto che la situazione persistesse, quindi con una nevicata molto debole che comunque non avrebbe impedito di andare a scuola. Invece ieri sera intorno alle 8 la nevicata si è fatta molto più abbondante e quindi questo è il motivo anche giustificato del disguido della contraddizione sulla scuola chiusa nel giorno in cui non c'era neve e invece lasciata aperta quando oggi la neve vi è stata. Quindi ci dispiace, già oggi posso dire che le scuole domani saranno chiuse e per lunedì naturalmente provvederemo. Naturalmente il sito sarà un punto di riferimento ma cercheremo anche attraverso i mezzi di comunicazione di informare le persone, i cittadini.